Ben trovati all'ascolto del nostro telegiornale, apriamo parlando della vicenda riguardo appunto la concessione dei loculi perché adesso interviene il Movimento 5 Stelle che ritiene la decisione del sindaco riguardo appunto la tassa una decisione impopolare. Vediamo. Anche il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle si dice contrariato dalla decisione dell'Aggiunta Italia di andare avanti per la propria strada confermando il rinnovo della concessione dei loculi al cimitero anche per le pratiche anti 1996. I consiglieri comunali pentastellati hanno preso carta e penna per informare il sindaco e gli assessori di quanto sia il loro giudizio impopolare questo provvedimento ma soprattutto incurante della decisione assunta dalla maggioranza del Consiglio Comunale appena una settimana dietro che puntava alla revoca della delibera. Esprimiamo, è scritto nella nota diffusa alla stampa, forte che si appunto in merito al mancato recepimento da parte dell'amministrazione attiva dell'orientamento chiaro e preciso espresso al civico consesso in ordine ai provvedimenti adottati sul rinnovo dei loculi dell'Aggiunta e ribadiamo la volontà espressa dell'atto in revoca della delibera. Seppur vero, dicono i consiglieri comunali del 5 Stelle, che l'atto di indirizzo politico costituisce manifestazione di desiderio privo di diretta operatività, è altrettanto vero che in quanto diretta espressione del principale ruolo dell'organo consigliare ha il preciso scopo di orientare i provvedimenti del sindaco e dell'Aggiunta. Il Movimento 5 Stelle in Consiglio ha dato un indirizzo preciso facendosi portavoce diretto delle esigenze ai cittadini che sono rappresentati proprio dal Consiglio. Il 30 luglio del 1988, quindi 31 anni fa, il record dei 101 metri in apnea del grande Enzo Maiorca. Vediamo. Il 30 luglio del 1988 Enzo Maiorca batteva il record di immersione in apnea toccando quota 101 metri. A distanza di 31 anni la città di Siracusa celebra quell'importante evento con una giornata dedicata al compianto re degli abissi, scomparso il 16 novembre del 2016 all'età di 85 anni. Le iniziative organizzate per il 30 luglio sono state presentate questa mattina. Una giornata intera dedicata ad Enzo Maiorca ma, come ha detto lei, dedicata al mare, una festa del mare. È la festa del mare perché papà in qualche maniera è il simbolo, è stato, continua ad esserlo, mi piace pensare, il simbolo del mare. Papà è colui che è riuscito a dare voce al mare, agli animali marini, a quello che veniva definito il mondo del silenzio. E no, invece non è così. È un mondo di gioia, è un mondo di felicità, è un mondo di urla, di dolore purtroppo oggi. Perché il mare è un malato grave, anzi gravissimo. Ci sarà un ricordo particolare di una giornalista che ha seguito Enzo Maiorca durante tutti i record, gli ultimi record soprattutto. Sì, Massimo De Angelis, inviato Rai, allora ha detto stampa per i record effettuati alla fine degli anni Ottanta e sotto la muta l'uomo. Ed è bellissimo il titolo di questo intervento perché papà non era soltanto uno sportivo, era un uomo di mare completo, un uomo di mare a tutto tondo, che dal mare onda dopo onda era stato plasmato e ripulito da ogni orpello inutile. E quindi è l'essenza di papà verrà fuori dal ricordo di Massimo. È stata una delle prime intenzioni da sindaco appena insediato, quello proprio di dedicare una giornata ad Enzo Maiorca. Enzo Maiorca rappresenta fortemente la nostra identità di siracusani, l'idea non solo di riqualificare un luogo della nostra città ma partire a riqualificare un luogo della nostra città in nome e per conto, lasciatemi dire, del grande Enzo Maiorca. L'occasione è quella dell'anniversario di uno dei record storici di Enzo, ma è un'occasione per sentire ancora una volta lo sguardo di Enzo Maiorca su tutti noi, uno sguardo sul mare, lo sguardo sul mare che significa anche uno sguardo alla sostenibilità, alla necessaria protezione dei nostri ambienti marini e non solo. Perché Enzo Maiorca oltre ad essere un grande atleta è stato anche un grande uomo che ha proprio imparato dal mare il rispetto dell'ambiente, dell'ecosistema e tutte le attività di tutela ambientale di fatto sono diventate negli ultimi anni protagoniste delle agende politiche di tanti governi nazionali e internazionali, chiaramente nel nostro piccolo anche il Comune di Siracusa con l'ordinanza sulla Plastic Free, con il progetto di piantumazione di un bosco in città con la dichiarazione dello Stato di emergenza climatica, di fatto si ispira a quello che Enzo Maiorca ci ha insegnato e che lui ha imparato dal mare. E dopo la protesta di ieri a Palermo di una delegazione siracusana riguardo la vicenda della costruzione del nuovo ospedale di Siracusa, adesso a presto ci sarà un incontro. Vediamo. Ha prodotto un primo effetto positivo il sit-in della delegazione di parlamentari e amministratori pubblici siracusani di centrodestra a Palermo davanti all'assessorato regionale della salute per sollecitare un intervento risolutore per ristabilire equità di trattamento sulla questione del nuovo ospedale di Siracusa. L'assessore Ruggero Razza, rispondendo a una precisa sollecitazione del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miciche, ha convocato per giovedì la stessa delegazione a Palermo per approfondire la tematica. Il presidente Miciche ha condiviso la protesta della parlamentare di Forza Italia Stefania Prestigiacomo e della delegazione del centrodestra siracusano. La rete ospedaliera regionale ha detto non può cristallizzare disparità di trattamento tra le varie province siciliane, ma deve garantire equità nel rispetto della cosiddetta legge Balduzzi. Giovedì l'assessore regionale Razza mi ha garantito che incontrerà la delegazione azzura di Siracusa e che entro questa settimana troveremo, con l'impegno di tutte le parti coinvolte, una soluzione soddisfacente. Il presidente dell'ARS ha detto di volersi impegnare personalmente con la delegazione siracusana affinché la Commissione Sanità non assuma decisioni sul tema fino a quando tutte le parti troveranno un accordo rispettoso del diritto alla salute di tutti i cittadini. Da qui l'appello alla delegazione a sospendere la manifestazione ancora davanti alla sede dell'assessorato regionale alla sanità. Riguardo l'ordinanza da parte della prefettura sugli assembramenti e quindi le proteste nella zona industriale. Il Tar rigetta il ricorso della CGL e dà ragione alla prefettura di Siracusa. L'ordinanza emanata dal prefetto di Siracusa con la quale si vietano assembramenti nella zona industriale fino al prossimo 30 settembre è legittima. Lo ha deciso il Tar di Catania che ha rigettato l'istanza di sospensiva dell'efficacia del suddetto provvedimento. Il ricorso in tal senso fu presentato dalla CGL mentre Cisle e Will chiedevano incontri con il prefetto. Dall'emanazione del provvedimento lo scorso 9 maggio non sono mancate le polemiche e le richieste di chiarimento. Contraria sin dal primo momento la CGL che si è rivolta ai giudici amministrativi. Tenuto conto del clamore e delle inutili polemiche suscitate dall'ordinanza si legge nella nota ufficiale della prefettura si repoda doveroso a beneficio dell'opinione pubblica locale e di tutti i soggetti eventualmente interessati comunicare che il Tar di Catania a seguito di ricorso proposto dal sindacato CGL ha rigettato l'istanza di sospensiva dell'efficacia del suddetto provvedimento. I giudici amministrativi hanno riconosciuto la piena legittimità dell'ordinanza prefettizia smentendo in modo chiaro tutti coloro che in queste settimane si legge ancora nel comunicato della prefettura hanno voluto con inaudita vehemenza attaccare l'istituzione prefettizia che ancora una volta agito nel pieno rispetto della legge e della Costituzione. Parliamo adesso di un disservizio in città perché infatti sono diverse le segnalazioni pervenute alla nostra redazione di residenti della zona del viale Zecchino e via Vambitelli riguardo appunto a un disservizio di poste italiane. Infatti da più di un mese nella zona non viene recapitata la posta. Gli stessi residenti hanno chiesto delucidazioni alla sede locale di poste italiane e gli stessi hanno risposto che si tratta di carenza di personale. I residenti chiedono a viva voce il ripristino al più presto del servizio di consegna postale che da troppo tempo l'assenza appunto di tale servizio sta creando disagi agli utenti. Bentrovati alla seconda parte del nostro telegiornale andiamo a parlare di cronaca in particolare ci spostiamo a Lentini perché un 28enne è stato denunciato per furto aggravato e violenza privata. Aveva convinto un'anziana donna a farsi donare la somma di 50 euro ma dopo averla accompagnata a casa ha pensato anche di sottrarle l'altra somma di denaro che aveva prelevato poco prima all'ufficio postale. Il fatto è accaduto a Lentini dove un giovane di 28 anni è stato denunciato dai poliziotti del locale commissariato intervenuto su segnalazione della malcapitata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori l'uomo aveva avvicinato l'anziana donna di 76 anni alla quale rivolgendosi con modi garbati aveva chiesto di poter avere dei soldi. La donna che in quel momento ne era sfornita avendolo preso a ben volere si è fatta convincere a prelevare dal Bancomat la somma di 200 euro facendosi accompagnare poi anche a casa. Per questa sua gentilezza la donna ha ben pensato di donargli una banconota di 50 euro. Con uno stratagemma però l'uomo riesce ad accompagnare la donna in balcone e a chiudere le finestre. Impossibilitata quindi a rientrare in casa il malvivente ha avuto così tutto il tempo di arraffare anche gli altri soldi che la donna aveva prelevato poco prima e quindi di andarsene via. L'anziana dopo essersi fatta liberare ha descritto ai poliziotti l'uomo che l'avrebbe derubata e gli investigatori si sono messi subito sulle tracce finché non è stato bloccato e denunciato a piede libero per truffa, furto aggravato e violenza privata. Parliamo adesso dell'omicidio del 25enne Andrea Pace che fu ucciso davanti casa sua il 12 giugno perché è stata ritrovata dai carabinieri l'arma utilizzata appunto per freddarlo. Vediamo. Una ricerca minuziosa che è coinvolta anche agli speleologi ha permesso ai carabinieri di trovare la pistola con cui la notte del 12 giugno è stato freddato davanti alla sua abitazione il 25enne Andrea Pace. La scoperta è stata fatta nelle campagne tra il centro abitato di Avola e Avola Antica. Dopo alcune segnalazioni i militari dell'arma hanno posto in evidenza l'area in cui poi hanno concentrato le ricerche dell'arma con cui sarebbe stato ucciso il giovane avolese. Si tratta di una pistola calibro 22 che potrebbe essere stata utilizzata dai fratelli Salvatore e Corrado Caruso per eseguire l'agguato. Il reperto sarà adesso oggetto di approfondimento nel laboratorio scientifico per il riscontro oggettivo con i cinque proiettili che hanno attinto la vittima. Il ritrovamento dell'arma è avvenuto su iniziativa degli investigatori atteso che i due fratelli Caruso non hanno offerto alcuna collaborazione agli inquirenti. Anche davanti al cipo del Tribunale a Redusea Andrea Mignieco i due fratelli hanno preferito avvolersi e la facoltà di non rispondere. Sono accusati in concorso di omicidio volontario aggravato da futili motivi e porta abusivo di armi da fuoco. A coordinare l'indagine del sostituto procuratore Nea Carlo Parodi che sulla scorta del ritrovamento della pistola ha un altro elemento per contestare due fratelli reati per i quali dal 16 giugno entrambi si trovano detenuti nella casa circondariale di Cavadonna. Parliamo dell'autostrada Siracusa-Gela perché sono stati affidati i lavori per la demolizione del casello di Cassibile. Secondo l'assessore Falcone sono dei passi avanti per ridare dignità alle autostrade siciliane. La demolizione del casello di Cassibile diventa realtà. Si è chiusa infatti ieri la procedura per affidare i lavori di demolizione del casello di Cassibile lungo l'autostrada Siracusa-Gela. Ieri il Cass, rispettando i tempi prestabiliti, ha recepito le offerte e ha segnato l'appalto. Procediamo a passo spedito, dichiara l'assessore Falcone, negli interventi che devono restituire dignità all'autostrada Siracusa-Gela. Come rende noto il Cass, ad aggiudicarsi l'opera dal valore complessivo di circa 290.000 euro e la società Edil Cento Grazie ha un'offerta con un ribasso del 24,69%. L'intervento, prosegue l'esponente del governo Musumeci, consentirà nello smontaggio delle opere d'arte, nella ricucitura della pavimentazione del casello e anche nella riqualificazione dell'asfalto antistante, retrostante la barriera. Prevista inoltre la ricollocazione dei guarda rail. Nelle prossime settimane, come promesso, quindi si abbatterà il pericoloso e inutile casello di Cassibile, recependo così le istanze provenienti dal territorio e dagli automobilisti. Troppi gli incidenti finora registrati, conclude l'assessore Falcone, a causa di una barriera costruita male e priva di qualsiasi funzionalità. E dopo il Castello Uriolo un altro sito archeologico è stato restituito alla città, ripulito e adesso quindi nuovamente accessibile. Parliamo del Tempio di Zeus, detto le due colonne, appunto ricordiamo il sito archeologico di Via Elorina che dal 26 luglio sarà di nuovo visitabile. Vediamo. Verrà aperto in via straordinaria ogni venerdì e sabato a partire dal 26 luglio il Tempio di Zeus Olimpio, detto anche le due colonne, nella periferia sud di Siracusa. Dopo gli interventi di pulitura del sito effettuati nel mese di giugno a cura dei volontari della cooperativa Insieme Mai Più Disaggiati e degli amici delle CAI e anche con il supporto logistico di Tecra Servizi Ambientali, ogni venerdì e sabato dalle 17 alle 19 si potrà accedere gratuitamente all'importante edificio templare, il secondo costruito a Siracusa dopo il Tempio d'Apollo e datato all'inizio del VI secolo a.C. I visitatori avranno anche l'opportunità di incontrare alcuni giovani archeologi grazie a un progetto didattico realizzato dal Parco di Siracusa in collaborazione col Dipartimento di Studi Umanistici e anche con la Scuola di Specializzazione in Archeologia guidata da Dario Palermo, sempre dell'Università di Catania. L'apertura al pubblico di questo straordinario sito archeologico, queste le parole di Calogero Rizzuto, direttore del Parco di Siracusa e Loro e Villa del Tellaro, è la prima di una lunga serie che vedrà tornare alla fruizione siti considerati di minora importanza ma ricchi di suggestione e bellezza. Parliamo adesso della squadra azzurra del Siracusa Calcio perché ci sono delle novità purtroppo non positive riguardo le ultime ore. Vediamo il servizio. Mancano pochissime ore alla scadenza del termine disposto dal sindaco Francesco Italia con il bando per le manifestazioni di interesse a far ripartire il Siracusa Calcio dal campionato di Serie D. Infatti entro la mezzanotte di oggi dovranno pervenire alla PEC del comune di Siracusa le proposte che poi saranno valutate dal primo cittadino e dal suo staff. Intanto si registrano due attentici colpi di scena. Il primo è dato dal definitivo stop alla trattativa che avrebbe dovuto coinvolgere l'imprenditore Licatese e Marcello Giavarini, tra l'altro ex patron dell'Acragas Calcio. Il secondo riguarda la famiglia Cutrufo che è rimasta da sola a supportare il progetto Serie D del Siracusa Calcio. Avrebbe chiesto un impegno diretto e concreto al sindaco di Siracusa. Ci sarebbe una somma importante garantita da Cutrufo e dal suo entourage che unita ai circa 40.000 euro già raccolti dalla campagna di prenotazione degli abbonamenti voluta e sostenuta dal consigliere comunale Gaetano Favara potrebbero costituire l'importo complessivo di 356.000 euro per l'immediata iscrizione al campionato di Serie D, Girone I. Il sindaco Francesca Italia, chiamato dalla famiglia Cutrufo a garantire nell'immediato un introito economico rilevante, dovrà reperire nel giro di qualche ora sponsor e imprenditori disposti a investire nel progetto Siracusa Calcio. Il patron Cutrufo ha infatti detto a chiare lettere al sindaco e anche agli uomini del suo staff che la sua famiglia non è in grado di sostenere da sola l'intero sforzo economico. Di business planning, di piano di investimenti e di quanto richiesto dal bando emanato dal sindaco neanche si può parlare se a mancare sono proprie le risorse economiche. Di altre cordate neanche l'ombra. L'unica iniziativa per far ripartire il calcio a Siracusa al momento è data dal progetto allo stato embrionale, quella che vede direttamente coinvolta la famiglia Cutrufo che già possiede il palazzolo calcio e che con un ulteriore impegno finanziario rivolto alla società azzurra rischierebbe di compromettere gli equilibri delle proprie aziende. Francesco Italia che nelle varie e ultime interviste alla nostra emittente ha sempre indicato la concreta possibilità di coinvolgere alcuni sponsor che avevano dato il loro assenso al progetto Siracusa Calcio dovrà dare fondo a tutta la sua capacità di persuasione mettendo nero su bianco ad accordi già concretizzati sulla parola. Diversamente i Cutrufo faranno marcia indietro e per Siracusa Calcio sarà notte fonda. Intanto il direttore sportivo Antonello Laneri viene accostato al progetto Palermo Calcio unitamente ad un altro prestigioso professionista come Renzo Castagnini. Per il Siracusa infine si dovrà attendere domattina la comunicazione ufficiale del Sindaco Italia che dirà se per la squadra azzurra ci sarà un futuro dello stesso colore o se si dovrà ripartire con il Real Siracusa Belvedere che nella prossima stagione militerà nel torneo di eccellenza. Questo servizio chiude il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per l'attenzione, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.